5 io cazzo stavolta un cazzo ma non ancora non te li sei messi manco uno e adesso la Fiorentina sta pareggiando 1-1 io devo partire 5 gol e un assist finalizzazione 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 no finalizzazione non ha le sa occhio occhio che è partita già la partita chi è? mettete il modulo che cosa? quant'è? eh sì eh eh raga è normale è normale infatti vale è normale e poi mi ha detto mi ha già 86 e tu fai schifo dark ok io sto tanto a capirai partiamo raga io ho tra 7 scusatemi un attimo ragazzi ragazzi mi ha segnato al fan da calcio Vlaovic a posto eh penso che o il 6 o il 7 vediamo come ci organizziamo il 6 quando hai il 6 raga? perché bisogna capire se ci siamo tutti e se lo fanno in sto weekend? eh no perché non è finito ancora il mercato capito? no la rossa la rossa che ci sta portata bene a rossa no vabbè bene no come se no come se no ah la stagio del Mendizio è rossa fa da sfondo al match di oggi ben trovati all'ascolto in visione da Pierlu Cipardo con me come sempre Stefano Nava gara che mette in palio punti pesanti per la salvezza potrebbe arrivare già oggi l'aritmetica certezza match che si pronuncia davvero molto interessante non è un match qualsiasi eh no, un successo darebbe loro l'aritmetica salvezza e ovviamente sarebbe importante tagliare questo traguardo già oggi per il club è fondamentale mantenere la categoria anche per la prossima stagione ottima occasione intervento provvidenziale, pericolo sventato di testa, concede la tush posizione buona per il cross lettura perfetta e palla recuperata piccolo toni palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa Mitch non salire prova con lancio lungo gran palla dentro occhio alla conclusione Mitch è un gol che cambia tutto che può regalare la salvezza già oggi episodi che potrebbe segnare non solo questo match ma tutta la stagione però non devono rilassarsi ora ci sarà tempo per festeggiare hanno aperto le marcature con questo gol 1 a 0 passaggio inguardabile concessa dunque la rimessa laterale buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio buona l'idea qui opportunità va bene mi sono sentito un po' barone ma va bene mantovani ci mette il fisico può metterla dentro attenta qui la lettura del difensore palla che è terminata sul fondo si ripartirà con la rimessa palla persa prova a sfruttare le corsie traccia in area ma non è perso alla lunga per il compagno premia la corsa sulla fascia buon pallone filtrante può scatenarsi sulla corsia palla importante il portiere in presa sicura ha deviato il pallone in out e concedendo la tush la rimessa laterale hanno gettato al vento questa rimessa regalando il pallone agli avversari pallone gestito male e riconsegnato agli avversari si abbassa per farsi dare palla fanno girare palla in attesa nel momento giusto mi scelta stai dietro poteva e doveva fare ma se ti sei dietro a Fabio non mi è piaciuto recuperano il pallone azione che si fa interessante salta il difensore lascia partire il tiro ed è gol rete dai dai e con questo gol prendono in largo difficile a questo punto per la squadra da sede tornare in partita scusa che ti ho fregato il gol me l'ho trovato là è una partita a senso unico davvero va con il possesso palla risolve una situazione complessa recupera un pallone pericoloso qui hanno segnato un gol che per i scozi hanno pressato bene recuperando palla quarto gol della gara che fissa sul 3 a 1 il punteggio questo dietro attenzione perché è pericoloso recupera la palla intercettando bene il pallone ma non so cosa ho fatto sarà fallo laterale ancora modric possesso palla per gli avversari intervento efficace del difensore che intercette il lancio e recupera palla può avvicinarsi alla porta arbitro che ferma il gioco attraversione al centro gran palla occhio al ribalzo ci sarà solo un minuto di recupero Zaccardo occhio al suo movimento arbitro dice che può bastare il primo tempo si chiude sul risultato di 3 a 1 prima è tutto pronto comincia il secondo tempo recuperano bene il pallone, situazione che era interessante occhio, si gioca a norma del vantaggio vediamo cosa inventa ora ha provato la girata di testa in conclusione sul fondo senza problemi per il portiere ci ha provato, andrà meglio la prossima volta riceve palla in posizione arretrata buono il tocco sulla corsa del compagno ma perché si è esallargato? grande intervento del difensore palla in out, ci sarà rimessa con le mani Modric, tacco pulito, pallone riconquistato ecco il tiro, conclusione murata l'idea era buona ma ha dosato certamente la parata del portiere che dice di no ma che è? ma donna scusa ragazzi ma ho provato a crossare ho fatto questa giove bene ragazzi ma i crossi ho detto che erano migliorati non sono automatici piccolo 81 apprezzabile questo pallone è finito il tiro non ho visto i difensori non ho fatto a franca ti sto dietro Ale palla girata sulla fascia prova a calciare ma che gol ha fatto non ci ha pensato due volte grazie rega bellissimo continuano a regalare grande calcio gol e non hanno intenzione di fermarsi i telecorronisti i telecorronisti mi sono simpatici appena dico una cazzata li tolgo l'attaccante non arriva palla fra le braccia del portiere ah ma io ho giocato senza autofagno ma qua qua sembra che dicono cose sensate non cose sensate lancio profondo interessante per Luigi Pardo e Stefano Analo ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio vediamo cosa decide l'arbitro Andrea vai Andrea bravo qui il difensore che legge bene questo pallone dark ha preso il rosso buono il recupero possono ricominciare chi è che ha preso il rosso che è che ha preso il rosso crossa verso il centro è arrivato un gol molto importante anche dal punto di vista psicologico per ripartire risultato adesso sul 4 a 2 modric cercano il buco della difesa avversaria no e lo passo dal giallo può andare sulla fascia occhio al traversone attenta qui la ripesa mamma mia ti sta a buttando occhio al corner buono l'anticipo del difensore che 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 e no marone si è buttato tre anni dopo il tiro non ha preso l'effetto desiderato altrimenti sarebbe stato gol sicuro vantaggio che si spiega sui tiri in potta hanno concluso ripetutamente a rete provando in più occasioni il gol non sembrano ancora accontentarsi eh continuano a spingere manca ancora un quarto d'ora alla fine ancora mai giocare interessante per il compagno modric allora che vola alto nessun problema per il portiere ancora mai capelli bianchi recupero la palla intercettando bene il pallone questa è difficilissima non so modric come un posto per azione attenzione mi c'è spazio per andare vai in faccia mi c'è pallone irraggiungibile morbido tra le braccia del portiere tutto fermo c'è fuori gioco che schifo io oserei dire pallone regalato agli avversari eh no no la velocità della prima che devi toccare occhio a questo pallone filtrante attenzione eh no buona lettura dell'azione ha intercettato bene il passaggio descalzo sto portiere non lo avete preso palla consegnata agli avversari intervento duro ma corretto occhio al tocco preciso per servire il compagno mamma mia chiusura fondamentale questo infatti c'è un errore perdono palla tu non mi vuoi bene mi c'è tu non mi vuoi per starlo tu non mi vuoi per starlo fallo laterale bastardo è il giallo sembra inevitabile qui è il rosso dai no ancora 120 secondi alla fine capirai palla riconquistata dagli avversari rimessa a battuta proprio male si giocherà ancora per due minuti agli allenatori è parso un recupero tutto sommato giusto non si è perso troppo tempo intervento ruvido ma corretto dai Petra Petra passaggio impreciso pallone intercettato mamma mia cosa ha fatto qui ha esagerato sì 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 dai due gol